Salve, molto felice, ben trovati a Cera Una Volta su Teleclub Italia. Correva l'anno 2001, quando nel mese di gennaio venne trasmessa da Teleclub Italia la primissima puntata di Cera Una Volta, in rigorosa diretta. Un esperimento nato da una brillante idea della professoressa Annapia Oranges, appassionata di cultura nonché della figura di Giovan Battista Basile. In un primo momento l'idea era quella di far leggere in televisione le fiabe tratte da Locunto degli Icunti dall'attrice giuiannese Teresa Barretta, la quale però era impegnata in quel tempo con altri appuntamenti teatrali e culturali sempre legati alle fiabe del Basile. Si cercò quindi di dare un'impronta diversa al progetto, purché le fiabe del Basile andassero in onda. Si pensò così ad un programma per bambini. Un format in cui le fiabe venivano riadattate ad un pubblico giovane e moderno, capace di creare interesse e competitività. Una fiaba appuntata e due squadre che si sfidavano con domande cirche racconti letti. Nacque così? C'era una volta. Alla prima edizione vi parteciparono bambini e amici della nostra emittente, ma divenne subito un gran successo. Alla seconda edizione iniziarono a partecipare le scuole del comprensorio. La figura di Basile suscitò l'interesse dei dirigenti scolastici giuianesi, tanto da far inserire il progetto nelle attività scolastiche. I bambini dei diversi istituti elementari si sfidavano a suon di fiabe. Ogni settimana una puntata diversa, in rigorosa diretta. A poco alla volta si aggiunse la lettrice, poi il teatrino, poi la figura del postino che portava le buste con le domande e l'elemento chiave erano le telefonate da casa, in cui i piccoli telespettatori giocavano rispondendo alle domande e regalando punti alla squadra preferita. Dal 2001 al 2006 un continuo crescendo di idee e partecipazione. Un gioco costruttivo ed interattivo che ha tenuto banco per più di 5 edizioni, con un successo ancora riconosciuto da tutti. Oggi quei bambini sono diventati adulti, ma il loro è ancora vivo il ricordo di un'esperienza molto formativa. L'ultima edizione del fortunato programma di Teleclub Italia ha subito un restyling nell'anno 2012, in cui a sfidarsi questa volta sono state le scuole medie. Un progetto culturale teso alla conoscenza di un personaggio che ha dato tanto alla cultura di tutta Italia, un personaggio celebrato ovunque, un personaggio figlio di questa terra e in quanto tale Teleclub Italia ne ha sempre onorato il suo operato e continuerà a farlo ancora a lungo. Mi raccomando, ogni venerdì su Teleclub Italia alle 15.30 c'era una volta! Ciao!